Il Cantiere della Providenza, cooperativa che si occupa di inclusione lavorativa per i soggetti più deboli, dopo tre mesi chiude il Temporary Shop, situato in Via Matteotti. Il negozio, temporaneo per definizione, fa parte di un progetto più ampio e capillare, con cantieri sparsi in tutto il territorio, volti ad assistere persone con disagio o disabilità. Il bilancio è più che positivo. Abbiamo venduto più di 300 marmellate, delle confetture biologiche che abbiamo prodotto con la frutta dell'azienda agricola regionale di Viliago. Abbiamo venduto più di 300 articoli del laboratorio Il Cartiere, il nostro laboratorio che fa oggetti in carta riciclata, quindi anche a livello di numeri siamo contenti della risposta dei bellunesi. L'obiettivo del punto vendita è stato quello di far conoscere la cooperativa e far saggiare ai bellunesi la qualità dei prodotti realizzati dai vari cantieri. Non solo marmellate o produzione alimentare locali, ma anche creazioni artistiche, biglietti, cartoline. Fagioli di Lamont, sempre prodotti dalla nostra azienda agricola che si trova a Badilet, sopra Castion, delle patate e poi insomma tutte le produzioni del cartiere che quindi sono dai biglietti, idee regalo che soprattutto durante le festività natalizie insomma sono andate molto bene, più tutta una serie di prodotti come le bomboniere che sono personalizzabili e che si possono trovare insomma poi tutto l'anno nel nostro laboratorio. Dopo la positiva esperienza del Temporary Shop, il cantiere in questi giorni sarà presente in fiera a Longarone. Saremo presenti ad Agrimont, insieme in collaborazione con Fartigianato, insomma saremo presenti in questi due weekend a Longarone, altra opportunità per noi per farci conoscere e far conoscere le nostre progettualità. Quindi insomma ora ci focalizziamo su quello, poi tutte le attività dei cinque cantieri che abbiamo continuano ovviamente per tutto l'anno. Grazie. Grazie. Grazie.